Ok al bollino blu della legalità in Puglia. Il Consiglio regionale ha approvato per primo in Italia il rating antimafia. L'indicatore servirà a premiare imprese e comuni che si impegnano concretamente nella lotta alla criminalità. Aziende e denti locali virtuosi avranno più soldi da finanziamenti e incentivi regionali. La norma stanzia 20 milioni di euro di aiuti europei per il riuso dei beni confiscati ai clan. La regione inoltre sarà parte civile in tutti i processi contro le organizzazioni malavitose. Un gettone invece finanzierà il diritto allo studio in capo ai figli delle vittime di mafia, dai 1.500 euro per la scuola dell'obbligo fino ai 5.000 euro per i master post laurea. Fratelli, figli, coniuge e convivente superstiti ancora avranno corsie privilegiate nell'assistenza sanitaria e per ottenere un posto di lavoro, soprattutto nei concorsi pubblici. Via Libera poi alla nuova disciplina del pescaturismo nasce un albo unico con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione. Nuove regole anche per la raccolta e la commercializzazione del tartufo. D'ora in poi sarà necessario un tesserino e precisi periodi di raccolta inseriti in un calendario con multe salate per i trasgressori. Infine il sì all'accessione in proprietà per gli affittuari degli alloggi delle case popolari in Puglia.